Sono molto grato a Don Andrea e a tutti i confratelli di Sebeso che mi hanno chiesto di indirizzare questo saluto benaugurale per la festa di calendimaggio 2020 che naturalmente si festeggia in un modo particolare, in un momento in cui il mondo sta attraversando un momento di grandissima prova. Il luogo da cui vi sto parlando è la sala fresca del Collegio Borromeo e ho scelto questa ambientazione per registrare l'augurio perché qui alle mie spalle c'è un fresco molto particolare e credo anche molto significativo, è la processione di San Carlo al tempo della peste. Siamo nel 1576 a Milano, la peste sta dilagando, è un momento di grandissima crisi. Carlo si appella alla fede, prende il chiodo della Santissima Croce e lo porta in processione per le vie di Milano. Ecco, la sua fede e la fede della gente riuscì a salvare il popolo in quel momento di grandissimo dramma. Riuscì forse meglio di ogni altro a dare uno sguardo diverso sul tempo che stavano vivendo. Così è stato anche per San Pietro Martire. Agli occhi di più può sembrare un dramma, può sembrare il violento esito di un destino malvagio, ma agli occhi della fede diventa invece il momento più importante della vita di Pietro da Verona, che morendo scrive credo. Credo significa credo che questo momento che vivo non sia l'ultima parola sulla mia vita, significa dire credo che la volontà di Dio buona si manifesti oltre il momento che vivo. Carlo porta in processione il sacro chiodo nelle vie di Milano per dare una visione diversa, perché la croce per i credenti è un luogo di rinascita, di risurrezione. È stato così per Pietro da Verona ed è stato così anche per il suo uccisore, carino da balsamo, che da lì redense la sua vita e diventò persino beato. Che la storia abbia dei corsi e dei ricorsi è naturale. Oggi ci troviamo noi in mezzo al nostro martirio, alla nostra pestilenza, senza esagerare comunque ad un momento di sacrificio che ci è chiesto. Per i credenti è importante avere lo sguardo di fede che la vicenda di Pietro da Verona e la vicenda di Carlo Borromeo ci insegnano. Chi ha fede non dispera mai, chi ha fede anche nel luogo della morte trova il germoglio della vita, chi ha fede anche da un'epidemia e da una pestilenza come quella che stiamo vivendo oggi nel mondo trova la capacità di rinascere, trova il segno di un Dio che sempre, sempre rimane il Dio della vita. Allora auguri, buon calendimaggio a tutti. Dire credo quest'anno avrà un sapore diverso, credo significativamente molto più autentico. Credo, credo che la vita tornerà a rinascere.